Un cordiale saluto, ben trovati e ben trovate da Tu per Tu, la trasmissione di Trentino TV realizzata in collaborazione con il Consiglio della Provincia Autonoma di Trento. Siamo con il consigliere provinciale della Lega, nonché vicepresidente del Consiglio regionale, Roberto Packer. Ben arrivato nei nostri studi. Grazie, buonasera. Parliamo del bilancio di assestamento della provincia che è stato approvato in Consiglio provinciale nelle ore scorse. Ci sono tanti punti all'interno di questa manovra che è stata l'occasione anche per tracciare un bilancio della legislatura che si sta concludendo. Sì, parliamo del bilancio della legislatura che è stata sicuramente particolarmente impegnativa come legislatura in quanto non ha dovuto affrontare solamente l'ordinarietà ma delle emergenze particolari come vaia, covid, l'emergenza del caro energia e poi alla fine l'emergenza grande carnivori. Quindi questa legislatura guida a Fugatti sicuramente non è stata una legislatura semplice. Nonostante ciò sono numerosi i punti da ricordare di quanto è realizzato in questa legislatura. E senza mettermi a delencare le opere pubbliche che hanno riguardato un po' tutte le valli del Trentino, da Rovereto alla valle di Ledro, alla valle di Nonna, alla valle del Chiese, alla val d'Adese, vorrei ragionare anche in termini proprio di argomenti. Quindi una presenza capillare di questa giunta sul territorio, ad esempio anche con la giunta che si svolgeva, una novità assoluta, si svolge settimanalmente in vari comuni del Trentino permettendo così ai cittadini di avere un contatto fisico diretto con il Presidente e con la stessa giunta. E poi è stato portato avanti il programma col quale questa maggioranza si è rappresentata, che era ad esempio quello di privilegiare i trentini nell'accesso alle case eterni, privilegiare i trentini per quanto riguarda determinati aiuti finanziari che vengano fatti a chi risiede in Trentino da dieci anni, anziché a chi è arrivato nella nostra provincia solamente qualche anno fa. Le opere pubbliche, come ripeto, hanno fatto recuperare molto tempo al Trentino rispetto agli anni del centrosinistra, che si era caratterizzato per grandi progetti spesso fumosi poi non realizzati, perché grandi proclami, Metroland, opere faraoniche, però poi ospedali nuovi come abbiamo visto, che però poi alla fine sono rimasti solamente sulla carta. Quindi un bilancio assolutamente positivo. Assolutamente positivo nonostante l'opposizione non fosse stata minimamente collaborativa, perché va rilevato che in questi cinque anni, anche sui grandi temi, perché io comprendo la distinzione dei ruoli fra chi governa e chi è l'opposizione, però mi sarei aspettato che su determinati temi, determinati argomenti, ci fosse convergenza. Invece, a iniziare dal Covid, c'è stata una strumentalizzazione, una speculazione sulle situazioni di grave emergenza per mettere in difficoltà la giunta Fugatti. Quindi non c'è stato quel senso di appartenenza a Trentino che avrebbe dovuto far battere le barriere, ma bensì si è cercato anche in quella occasione di fargli sciacalli, di andare a speculare su scelte che erano oggettivamente difficili. Stessa cosa sui grandi carnivori, mi sarei aspettato che sui grandi carnivori ci fosse un'unità di visioni. Avevamo un giovane, prima volta, primo caso, in Europa di un uomo ammazzato da un orso, e invece anche su questo abbiamo trovato il distingo che non hanno sicuramente fatto bene a Trentino. E ricordiamo che proprio nell'ultima seduta del Consiglio Provinciale, durante la quale è stato approvato il bilancio proprio in tema di opere pubbliche, lei ha presentato un ordine del giorno che riguarda proprio una piccola opera in Alta Val Sugana e in particolare nel comune di Levico Terme. Sì, io ovviamente provenendo da quel territorio mi sono fatto portavoce anche degli interessi di quella valle. Poi i miei interventi hanno riguardato ovviamente tutta la sfera provinciale, però la Val Sugana, avendo un contatto diretto, era più attenzionata proprio perché mi venivano portate queste problematiche. Allora, questo ordine del giorno, che è un ordine del giorno che prevede di realizzare un piccolo parcheggio presso l'Istituto Barelli, è significativo perché dimostra che la politica si occupa delle grandi opere, di cui facevo prima riferimento queste grandi opere, spesso rimaste poi solamente sulla carta, invece è anche una politica che si occupa di piccoli ma significativi problemi. Quello di ieri è un ordine del giorno della portata di 50, 60, 70 mila euro, la realizzazione di un parcheggio all'interno dell'opera Barelli, rimuovendo un muro. Un'opera veramente piccola per quanto riguarda l'entità della spesa, ma significativa perché dimostra che la politica deve essere presente e puntuale sui grandi temi, ma anche sulle scelte di tutti i giorni, sulle opere minuscole, piccole, che però sono estremamente funzionali e che per quella realtà sono assolutamente importanti. Bene, siamo in chiusura, questa è l'ultima puntata per lei di questa legislatura e quindi naturalmente la ringraziamo per essere stato con noi anche quest'oggi. Io saluto chi ci ha seguito e vi do appuntamento ad un'altra puntata. Ringraziamo dunque Roberto Paccher, vicepresidente del Consiglio regionale, consigliere provinciale della Lega. Arrivederci. Grazie.